Buongiorno a tutti. Con i nuovi, con la Guinea, quella che ha approvato per tutti noi, Pullo Futa, adesso che, ad esempio, dobbiamo aiutarli. Ok, allora, cosa hai tipo un consiglio ai tuoi fratelli che vivono là, che l'ucidano con il... Niente, non hanno fatto nessuna cosa. Invece, se devi ammazzare una persona, devi avere le prove. Però ammazzare una persona non va bene. Possono faticare, alcuni vivono anche... non hanno una casa e vivono delle cose più belle. E hanno delle cose che... come esempio, una cosa che non ha valore e non hanno nemmeno... non hanno nemmeno carità. Quando avevo nove anni, quindi l'anno scorso, ero nato in Senegal, ho visto mio nonno, mia nonna. Sono andato a fare tanti giri e ho visto tante persone che avevano i vestiti strappati. Ok. E questo a me mi fa commuovere perché, ad esempio, le persone, dalla mattina alla sera, come i miei genitori... Ok. Ad esempio, lavorano e fanno tanto su due. Io apprezzo le cose che fanno. Io ci penso alla loro... Tu ti piaccherebbe tornare in Gini a fare una cosa del genere? E di tornare come? In cosa? Tu vorresti tornare in Guinea quando sarai grande così? Quando sarò grande sì, tornare in Guinea per vedere la situazione, donare soldi alla Guinea, donare tante cose ai miei genitori, ai miei nonni, ai miei parenti tutti. Sei studiando? Sto studiando e finché non sarò maggiorenne, ritroverò un lavoro, lavorerò finché non vado in pensione, ad esempio, e quando avrò tutti i soldi non li donerò solo per me ma anche donare. Ricorderai di me quando avrai soldi? Io guarderò tutti, ricorderò anche le cose che ho fatto da bimbo. Da bimbo puoi anche fare le cose da grande. Ma tu hai salutato il presidente prima? Ho salutato il presidente, mi ha detto di venire. Ti ho visto e per quello ti ho chiesto. E' stato bello conoscerlo e come l'ho visto dalle foto mi diceva, come ad esempio il mio cervello, è bello stare con lui, mi piace. E' bello e quando l'ho visto faccia a faccia ero molto commuovo e dico che le cose che ho fatto sono bellissime. Ok, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.